La vincitrice di Io Canto Generation è Marta Viola. A soli 14 anni, Marta ha raggiunto il podio insieme a Sofia Leto e Daniele Mattia Inzucchi. La vittoria di Marta le ha garantito un viaggio negli Stati Uniti e a Firenze, con un posto alla Summer School Academy di Canto, cinema e filmmaking musicale nella prestigiosa New York Film Academy. A soli 10 anni, Marta Viola aveva rappresentato l'Italia al Junior Eurovision Song Contest nel 2019, classificandosi al settimo posto. Il suo talent scout è Franco Fasano, il noto autore del brano Eti Lascerò, vincitore di Sanremo nel 1989.